In bocca a lupo all'Italia e ben venga la vittoria. L'attesa è quella dei grandi eventi e i pronostici naturalmente sono tutti per insigni e compagni. Ovunque impazza la febbre per l'Italia di Mancini che domani a Wembley sfiderà l'Inghilterra nella finale del campionato europeo. Il pronostico è che l'Italia vince 2-0. Speriamo che vince, io sono sicuro che vince 2-0. Come finisce? Fu, è dura, però spero nel gol di Immobile. Chi sarà protagonista secondo te? Insigne ce lo vedo sicuramente. Va bene, dubbio, forza azzurri, forza azzurri! Magliette, trombe, sciarpe, parrucche, WU Zelas, insomma affari d'oro per le bancarelle azzurre. Sempre le magliette di Insigne e di Chiesa per adesso, sono gli unici articoli che vanno sempre più forti. Giorno dopo giorno se ne vendono sempre di più le magliette. Dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, almeno siamo più uniti, tutti uniti. Forza Italia! Ma c'è massima allerta in tutta la campagna, la vigilia della finale anche dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico per eventuali maxischermi abusivi che favorirebbero gli assembramenti. I carabinieri del comando provinciale di Napoli continuano senza sosta il monitoraggio del territorio. Si intensificano i servizi per evitare l'installazione di maxischermi abusivi e scongiurare assembramenti che potrebbero favorire la diffusione del contagio.